Onde evitare ogni accusa di ideologie contrastanti, allora giustifichiamo i voti dati e quelli che daremo. Per la numero 6 la commissione delle elette ha delle sue specificità e prerogative che mantiene, naturalmente ha delle competenze trasversali ma che non devono però prevaricare le competenze di tutte le altre commissioni. Questo che chiaramente nel suo contenuto condividiamo completamente, quando si va a tradurre in una prassi di commissione va a toccare materie che invece debbono essere svolte anche da altre commissioni, quindi abbiamo strumenti come le congiunte e quant'altro per poterlo fare. Inserirlo in un regolamento non ci è sembrato opportuno, viceversa la numero 7 ci trova completamente d'accordo e per cui voteremo sì. Se possiamo anticipare anche il voto per la numero 8 qui voteremo no perché anche in questo caso si vorrebbe declinare all'interno di un regolamento qualcosa che invece è molto più specifico e che attiene a una prassi che sicuramente ci troverà d'accordo ma per l'appunto in un altro contesto che non quello regolamentare. Grazie.